scusa scusa è colpa di claudio che ho fatto tardi dai e sono dieci anni che me lo tengo al ristorante tu ricordi quando è venuto no vabbè infatti non può ricordare perché non era ancora nata però te l'ho detto che si drogava vero guarda se ti è un impegno vedermi a riprendere io posso anche prendere il minibus guarda che anche christian lo prende per me non è un problema ma non ci sta nessun motivo maria ti fa piacere che ti vengo a prendere sì ma fai sempre tardi vabbè non è che faccio sempre tardi spesso vabbè spesso però oggi te l'ho detto è stata colpa di claudio perché alla fine so io che sbaglio che mi fido di questi di questi cuochi strampalati che gli do una mano e poi mi trovo male sinceramente sei anche tu un po strampalata ho capito ma uno di se stesso se deve fidare per forza è secondo me ha ragione claudio sei tu quella strampalata non è lui ah sì so io sì sei tu allora ti dovrai mangiare tutte quelle verdurine viscide che cucina lui e io mi mangerò il pollo fritto con le patate al forno non è giusto però e invece sì nonna la vuoi sapere una cosa però dimmi dimmi non me sono io quella strampalata a forza di stare con te e a quel cuoco pazzo di claudio comunque niente verdura pollo fritto e patate fritte però pure quelle ma te la sei aggiustata come al solito furbetta e chissà da chi avrà imparato furbona senti ma claudio un pezzetto di pollo fritto glielo diamo come dice lui fritto è tutto buono anche le sole delle scarpe io li vorrei provare però le sole delle scarpe così dice a sono buone sono fritte sì ma adesso invece andiamo a mangiare il pollo fritto che ho cucinato io dai dai che è tardi già oggi